Ratchet, forse dovremmo ragionare con loro. Certo, mi hanno promesso il segreto Lombax. Ho promesso di non farli saltare in aria. Griglie laser. Zè, quando imparerà? Affermativo, deviazione condensatore primario. Va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benvenuto nell'armeria. Fa bene, capo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benvenuto nell'armeria. Abbiamo quella piccola canaglia proprio dove vogliamo. Capo ammiraglio Kronk, al mio segnale scatenare il caos. Benvenuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va bene, capo. Grazie a tutti. 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 Vabbè Il generatore di campo primario è andato Siamo una preda facile Non è possibile aprirla senza almeno due casse di nitrocelli pirocidiche Il tuo geolaser è dotato di un indicatore direzionale che mostra le pareti più fragili Segui il segnale e scopri dove utilizzare questo utile dispositivo Usa il tuo nuovo geolaser per perforare Ti hai detto chi ti ha dato questa cosa? Gli zoni Sono piccole creature invisibili che viaggiano nel tempo Oh, giusto Ecco il bastardo Volverizzatelo! Le mie bobine di movimento Grazie ragazzi, da qui posso fare da sola Beh, congratulazioni Vinci un viaggio fuori dalla zona di pressurizzazione? È un problema restare all'esterno? Odio il rumore della decompressione dei corpi nello spazio Fagliela vedere a quel Lombax Cosa? È un Lombax! Cronk, Zephyr, abbassate le armi E così, i nostri eroi raccontarono le misteriose circostanze Che li avevano portati alla stazione spaziale di Talwin Epogee La loro missione alla ricerca del segreto Lombax Un codice avvolto in un enigma farcito con super salsa segreta Ora basta, Zephyr Oh, scusimi Quindi se è un Lombax che non ha mai visto un altro Lombax Non sa dove sono o qual è il loro segreto È talmente... Ironico? Lui deve essere quello furbo Miss Epogee C'è un motivo per cui Takion potrebbe pensare che tu abbia l'arma dei Lombax? Questa è la base di mio padre Max Epogee? Max Epogee era un famoso... È un famoso Sì È un famoso esploratore e collezionista di rare antichità interstellari La più famosa delle quali era un artefatto Lombax E dov'è l'artefatto ora? Dei pirati depredarono la stazione Presero soltanto quello Mio padre li inseguì Ma non è mai tornato Ricordo che quel contrabbandiere ha parlato di pirati di Ardolis Ardolis... Kronk Kronk Kletcher Preparate la nave Chiudete tutto all'uscita Ratchet, ti invio alle coordinate per Ardolis Scusa se ti ho trattato bruscamente alla stazione Non esco più molto dalla scomparsa di mio padre Ci vediamo presto Coordinate acquisite per il pianeta Ardolis Va bene capo Grazie a tutti Che stai cercando di fare amico? Vai là fuori e cerca altre anime Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.